Se vuoi fare un buon ceviche deve iniziare da un buon pesce, questo è il merluzzo. E non è il ceviche se non avete la i amarillo e il coriandolo, la cipolletta quella rossa e il lime ovviamente. Il nostro merluzzo a pezzettini. Mettiamolo in acqua fredda, un po' di sale a piacere. Mettiamolo in frigo mentre prepariamo gli altri ingredienti. Tagliamo il peperoncino, leviamo i semi e tagliamo, tagliamo e tagliamo. Spremiamo il lime, mettete la metà della cipolla tagliata, qualche rametto di coriandolo. Un po' di aji amarillo, ora il succo di lime. Copri e metti in frigo finché non si è spianca, circa 10-15 minuti. Un poco di sale quanto vi piace. Tagliamo il coriandolo che serve da decorazione e anche sempre per viareggio. Voilà! Un po' del nostro pesce e anche un po' di sugo perché questo lo chiamano latte di tigre e è buonissimo. Un po' della cipolla tagliata, un po' di aji amarillo e coriandolo tagliato. E poi lo maniamo.